ehi roccia roccia ti ha sfidato di nuovo ancora si vuole di nuovo il titolo di roccia vabbè questa volta gliela farò mangiare io la polvere lo distruggerò una volta per tutto tranquillo io ti ho tera roccia è già pronta lo ridurrò in un piccolo sassolino altro che roccia perfetto Che cosa? Grazie a tutti.